Siamo alla fine dell'evento Food and Rose Selection da Concomonia di Bruxelles. Abbiamo fatto questi tre giorni di degustazione e di abbigliamento con il food abruzzese e sono stati programmati i risultati qualche minuto fa. I risultati che provano una volta in più che il Concomonia di Bruxelles è un evento davvero internazionale perché abbiamo dei risultati su food pairing che vengono da paesi tanti diversi come la Francia, l'Italia e il Portogallo ma anche la Bulgaria e la Slovacchia. Questi tre giorni di degustazione hanno permesso alla cucina abruzzese, al territorio abruzzese di provare la qualità dalle sue materie prime e gli chef della scuola alberghiera hanno proposto ai degustatori dell'evento degli abbinamenti eccezionali. Quindi aspettiamo ora la prossima edizione del Food and Rose Selection sperando che si possa fare una tradizione in Italia.